25 aprile in tutta la regione i festeggiamenti per l'anniversario della liberazione ricorre oggi il 68esimo anniversario della liberazione dell'italia dall'occupazione nazista e dalla fine del ventennio fascista a campo basso rocchetta al volturno e termoli è stata celebrata la ricorrenza giunta regionale l'eventuale allargamento una chance per inserire le quote rosa il governatore paolo di laura frattura mentre attende un parere dall'avvocatura dello stato sull'ipotesi di inserire nell'esecutivo un quinto assessore travolto dalle critiche degli ultimi giorni potrebbe inalzare l'indice di gradimento con l'inserimento di una rappresentante del gentil sesso nella squadra di governo domani intanto l'incontro chiarificatore tra il presidente cotugno isernia centro-sinistra compatto alle amministrative il candidato sindaco luigi brasiello nel corso di una conferenza stampa ribadito l'unità di intenti con lui anche l'italia dei valori e giuseppe laurelli che era stato fortemente critico nei confronti del presidente della camera di commercio della provincia pentra lupi un nuovo spiraglio per la cessione della società l'imprenditore di vicenza giulio di palma ha comunicato al presidente ferruccio capone la sua disponibilità a concludere l'operazione già nella giornata di lunedì quando l'aspirante patron sarà in città buongiorno e ben trovati con l'informazione di molise tv in apertura parliamo del 68esimo anniversario della liberazione la cerimonia il ricordo del 25 aprile 1945 si è svolta per la prima volta all'interno delle massime istituzioni regionali vediamo il servizio d'apertura di samanta charla si è aperta al saloncino del consiglio regionale in via 24 maggio la celebrazione organizzata in occasione del 25 aprile anniversario della liberazione dal nazifascismo all'incontro hanno partecipato le massime istituzioni regionali oltre al lanci molise e l'associazione nazionale partigiani di isernia penso che la commozione espressa dal presidente della repubblica il momento del giuramento parlando del proprio paese significhi il sentimento che dobbiamo esprimere tutti noi rappresentanti con una classe dirigente forse non all'altezza ma che comunque ce la mette tutta perché appunto l'esperienza possa significare la forza per superare questo drammatico momento ad aprire i lavori il prefetto di campo basso francesco paolo di menna il messaggio che viene da questa data è quella di unitarietà il 25 aprile è una data nella quale l'italia ha dato prova di sapersi riscattare e attraverso il sacrificio perfino della propria vita dei giovani che hanno fatto la resistenza e quindi il 25 aprile deve essere una data unificante una ricorrenza dal sapore speciale il simbolo della fine del ventennio fascista la fine della dittatura la fine di cinque anni di guerra un grazie a quegli uomini a quelle donne a quei giovani anche molisani che 68 anni fa hanno dato la loro vita per la nostra libertà e per la democrazia senza la lotta partigiana senza la resistenza senza ragazzi come mario brusa romagnoli di 21 anni nato a guardia reggia che venne fucilato il 30 marzo del 1945 in piemonte in italia non ci sarebbe mai stata la libertà oggi noi la dobbiamo difendere un messaggio forte deve venire anche dalle istituzioni è la prima volta che all'interno del palazzo della regione che la massima istituzione del molise si celebra il 25 aprile con le rappresentanze delle amministrazioni provinciali locali del prefetto e con le rappresentanze massime anche della regione molise abbiamo portato il 25 aprile la festa della liberazione all'interno delle istituzioni molisane non solo per ricordare ma anche per festeggiare il prezioso dono della libertà conquistata dal movimento della resistenza è un momento particolarmente sentito anche perché quest'anno in special modo riassume una valenza superiore visto che fino a quando c'era il governo berlusconi e di destra questa giornata veniva sminuita invece noi abbiamo sempre resistito visto che parliamo di resistenza nel ricordarlo e lo facciamo anche quest'anno con un impieto sempre forte perché i giovani non dimenticano imparino conoscono quindi buon 25 aprile a tutti in occasione della festa della liberazione a termoli l'amministrazione comunale ha deposto una corona dell'oro al monumento dei caduti durante le guerre in piazza monumento a rappresentare l'amministrazione comunale c'erano il vice sindaco Enzo Ferrazzano e l'assessore alla cultura Michele Cocomazzi con loro i rappresentanti dei vigili urbani dei carabinieri della polizia nel breve discorso il vice sindaco Enzo Ferrazzano ha ricordato l'importanza di questa giornata per l'Italia che negli ultimi tempi non sta certo vivendo lo suo periodo migliore sia per le problematiche legate al mondo del lavoro ma specialmente per quelle che hanno portato alla costituzione del nuovo governo per questo motivo secondo Ferrazzano il 25 aprile deve servire da monito per una nazione che deve ritrovare il suo naturale cammino e la festa della liberazione è stata celebrata come ogni anno anche a Monte Marrone a Rocchetta Volturno dove il 31 marzo 1944 ci fu il combattimento del corpo italiano di liberazione il servizio è di Arianna Gentile ascoltiamo il 25 aprile di 68 anni fa gli italiani riuscirono a fare un sorriso liberatorio il coraggio la voglia di libertà la resistenza dei partigiani misero fine a vent'anni di dittatura fascista all'occupazione nazista e a cinque anni di guerra un avvenimento che per la storia d'Italia rappresenta un giorno fondamentale e come ogni anno il sindaco di Rocchetta Volturno il comitato antifascista molisano l'associazione nazionale dei partigiani d'Italia e il sindacato dei pensionati si sono ritrovati a Rocchetta per prendere parte alla cerimonia di commemorazione dei caduti della resistenza prima alle 10 presso il cippo funebre di Jaime Pintor giornalista scrittore antifascista italiano per la deposizione di una corona dall'oro siamo qui sul cippo di Jaime Pintor un giovane che mentre era impegnato nei suoi studi di letteratura decise di unirsi alla resistenza e partendo da Napoli dove già era venuta la liberazione si ancamminò per queste montagne per raggiungere Roma dove ancora diciamo c'era la lotta partigiana lui per per un caso per una fatalità mise in piedi su una mina e quindi in giovanissima età morì su queste montagne da tanti e tanti anni noi ogni 25 aprile persone di diversa estrazione sia della CGL che è stata promotrice sia di tante altre organizzazioni veniamo veniamo qui a ricordare il suo sacrificio pensando che è valido nell'oggi perché anche oggi quei valori per cui lui è morto richiedono il nostro impegno e ciò che diciamo non deve essere dimenticato è che lui ha lottato per una repubblica e per una civiltà di giustizia per la quale anche oggi stiamo lottando in diversa maniera. L'anniversario della liberazione d'Italia è stato poi scandito da un altro momento toccante presso il monumento nazionale di Monte Marrone dove la liberazione mosse i suoi primi passi la cerimonia si è conclusa con la deposizione di un'altra corona dall'oro alla commemorazione ha partecipato anche la CGL del Molise. La CGL è qui oggi come in tutti questi anni è sempre stata in questi posti dove il 25 aprile è rimasto emblematico per la liberazione nei posti dove si è combattuto per la costituzione e per i diritti che oggi abbiamo e oggi penso che sia necessario più che mai ricostruire quel percorso per salvaguardare la democrazia e la libertà. E' prima adesso la pagina politica. L'ipotesi del quinto assessore a travolto di critiche il presidente della regione Molise Paolo di Lara Frattura che questa mattina sull'argomento ha preferito glissare. Il governatore potrebbe però innalzare nuovamente l'indice di gradimento sfruttando questa chance per inserire le quote rosa nell'esecutivo il servizio. La questione dell'eventuale quinto assessore della giunta Frattura terra a banco per i prossimi giorni fin quanto il governatore non scioglierà i dubbi sull'allargamento della giunta e in tal senso Frattura ha già chiesto un pari dall'avvocatura dello Stato consulente della regione Molise. Sulla pioggia di critiche piovute addosso all'architetto Campobassano lo stesso governatore ha glissato così. Ma polemiche che ripeto né mi appartengono né onestamente faccio mie. Il tema oggi è dare riscontro ai tanti problemi con proposte concrete. Su questo penso che saremo valutati da tutti i cittadini. Il centrodestra al prossimo Consiglio regionale in programma con molta probabilità il prossimo 7 maggio presenterà una mozione illustrata nel corso di una conferenza stampa con la quale chiederà la maggioranza l'UMI sulla non promulgazione dello statuto entro i termini richiesti, mentre la delibera di giunta regionale numero 160 del 2012 sulla proposta di abrogazione della legge che ha sancito i numeri del Consiglio regionale inizierà il suo iter in prima commissione presieduta da Francesco Totaro dall'8 maggio. Senza lo statuto nuovo l'allargamento della giunta regionale sarebbe possibile perché si applicherebbe la legge nazionale, la 213 del 2012, che prescrive che il numero di assessori deve essere pari a un quinto dei consiglieri. In Molise i membri di Palazzo Moffa sono 21, dunque il parametro di riferimento è 4.2 che ha arrotondato per eccesso dal numero di 5 assessori avallati dalla legge. Il centrodestra teme che l'allargamento della giunta regionale possa essere un mezzo per risarcire rialza di Molise con l'assessorato che andrebbe a Vincenzo Cotugno il quale ha già affermato che lui prende un posto nell'esecutivo ma senza alchimie, semplicemente con un rimpasto di giunta e domani mattina in via Genova l'ex sindaco di Venafro incontrerà proprio il presidente Paolo di La Lafrattura per parlare della questione in un faccia a faccia, lontano da occhi e orecchie indiscrete, ma soprattutto si avrà un confronto dopo i botte e risposta a suon di comunicati stampa delle ultime settimane. Tornando alla questione del possibile quinto assessore non bisogna dimenticare che tra i vari ricorsi presentati al Tarmolise c'è anche quello inoltrato al Tribunale Amministrativo da Adriana Itzi, consigliera al Comune di Campobasso relativo all'Equoterosa, tutelata da più normative in vigore a tutti i livelli della vita amministrativa. L'unica donna nella maggioranza a Palazzo Moffa è nunziata a Tanzio dell'Udeur che dunque potrebbe rientrare nella corsa al quinto assessorato pretendendo un posto nell'esecutivo. Il Molise è l'unica regione che non ha puntato sulle donne nei ruoli chiave dell'ente, così come è successo nel Lazio e Lombardia dove i governatori Zingaretti e Maroni si sono affidati alle donne nelle rispettive giunte. Nel confinante Lazio su 10 assessori regionali ben 6 sono donne, in Lombardia invece 14 assessori sono equamente suddivisi tra uomini e donne, 7 e 7. In Friuli Venezia Giulia invece lunedì è stata eletta al vertice della regione un presidente donna, Deborah Serracchiani. Il governatore Paolo di Laura Frattura investito dalle critiche negli ultimi giorni per l'ampliamento dell'esecutivo nonostante i proclami del taglio dei costi della politica potrebbe sollevare nuovamente l'indice di gradimento se dovesse inserire una donna in giunta, soprattutto delle rappresentanti del gentil sesso che si sentirebbero finalmente rappresentate nella giunta dell'architetto di Campobasso, il primo esecutivo senza donne delle ultime legislature. E sulla questione dell'allargamento della giunta si sono detti pronti ad opporsi anche i consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle, Antonio Federico e Patrizia Manzo, i pentastellati del Movimento di Beppe Grillo durante la riunione della prima commissione permanente hanno infatti chiesto che lo statuto non sia modificato e soprattutto sia promulgato il prima possibile. E in merito alla sentenza del Consiglio di Stato sull'incompatibilità della Fim Molise Servizi con la Fim Molise S.p.a. si è espresso l'assessore regionale Massimiliano Scarabeo. La Fim Molise Servizi va posta in liquidazione, è una vera contraddizione, è un'anomalia tutta molisana che potrebbe avere conseguenze disastrose per ciò che si sta cercando di fare per aiutare l'economia regionale, ha affermato l'assessore Massimiliano Scarabeo in una nota stampa. Un altro ramo secco che va tagliato e in realtà la regione molise aveva già adottato una delibera per la liquidazione della Fim Molise Servizi. Oggi con questa sentenza la situazione non può più essere rimandata, diversamente potrebbe bloccarsi tutta l'attività della Fim Molise S.p.a. Il Molise non può permettersi più perdita di tempo e soprattutto non può sostenere iniziative inutili o doppioni. E come anticipato in campagna elettorale, l'aggiunta frattura ha dato il via libera alla riorganizzazione degli enti subregionali, via dunque ai commissari e largo ai dirigenti regionali. Prima fra tutti Rossella Perrella che è stata appena nominata alla guida dell'Istituto Autonomo Case Popolari al posto di Di Falco, Daniela Battista invece prenderà il posto di Bruno Verini al vertice dell'azienda di soggiorno e turismo di Termoli Servizi. Saranno i dirigenti a guidare gli enti subregionali da riformare ancora il regime di commissariamento. Ciò che il presidente del Molise Paolo Di Laura Frattura aveva annunciato in campagna elettorale sta trovando ora attuazione. L'aggiunta ha infatti iniziato proprio dall'Istituto Autonomo Case Popolare e dall'asta azienda autonoma di soggiorno e turismo di Termoli, dove gli incarichi per Francesco Di Falco e Bruno Verini, rispettivamente alla guida dei due istituti, era ormai al capolinea. Abbiamo scelto per la guida degli enti, ha spiegato il governatore Frattura, di avvalerci di figure professionali interne alla regione, in maniera tale da gratificare quanti ogni giorno si impegnano con rigore e preparazione per un efficiente funzionamento della nostra amministrazione. Tutto questo processo dovrebbe dunque avvenire senza costi aggiuntivi e tale criterio, stando proprio a quanto dichiarato dallo stesso governatore, sarà applicato a tutti gli organi regionali da riformare. Intanto la prima nomina effettuata al momento è stata quella dell'architetto Rossella Perrella, ex dirigente del settore servizio conservazione della natura e valutazione impatto ambientale ed ultimamente in opera presso l'agenzia Molise Lavoro, che da ora in poi dirigerà lo IACP al posto di Di Falco. Proprio da quest'ultimo, così come dall'assessore comunale del PDL di Termoli, Verini, al momento sembrerebbe non sia stata sollevata alcuna polemica, anzi l'ormai ex commissario dello IACP avrebbe poi smentito anche le voci che lo avrebbero visto nell'ultimo periodo a riavvicinarsi al centro-sinistra. E torniamo a occuparci dei tagli imposti dal piano sanitario regionale del commissario governativo Filippo Basso. In difesa del presidio ospedaliero di Agnone hanno deciso di scendere in campo con una nuova mobilitazione anche i sindaci dell'Alto Molise e quelli dei centri abruzzesi che da anni fanno riferimento al nosocomio agnonese. Domani la questione sarà affrontata in consiglio comunale grazie a un'esplicita richiesta avanzata dai gruppi di minoranza. Prendendo atto del risultato raggiunto circa il riconoscimento del Caraccelo come ospedale di area disagiata, dichiarato il sindaco di Agnone Michele Carosella, stiamo discutendo l'opportunità di impugnare il piano sanitario in alcune sue parti ai fini di tutelare i livelli di assistenza sanitaria sul territorio alto molisano e del vicino Abruzzo. Discontinuità e rapporto costante con la regione molise, ponendo contare sull'apporto del governatore Paolo Di Laura Frattura. Sono le parole con le quali il candidato sindaco del centro-sinistra alle elezioni di Sernia, Luigi Brasiello, ha presentato la sua candidatura nel corso di una conferenza stampa alla quale hanno preso parte anche il presidente della regione molise Paolo Di Laura Frattura, l'assessore regionale Pier Paolo Nagni e il deputato Danilo Leva, il servizio. Discontinuità e rapporto costante con la regione molise, potendo contare sull'apporto del governatore Paolo Di Laura Frattura. Il candidato sindaco del centro-sinistra Luigi Brasiello alle prossime elezioni comunali di Sernia ha dettato le linee guida del suo eventuale approdo a Palazzo San Francesco. Il presidente della Camera di Commercio, che a breve lascerà l'incarico per dedicarsi attivamente alla vita politica a un mese dalle elezioni comunali, ha presentato la sua candidatura nel corso di un incontro al quale hanno partecipato anche il presidente della regione molise Paolo Di Laura Frattura, l'assessore regionale dell'Italia dei Valori Pier Paolo Nagni e il deputato del Partito Democratico Danilo Leva. Brasiello ha sottolineato l'unità di intenti con il governatore Frattura, con il quale il candidato sindaco ha già lavorato insieme con la Camera di Commercio e con Union Camere. Il presidente della regione molise ha sottolineato invece l'unità della coalizione, fondamentale per i successi politici del centro-sinistra in Molise, mentre la presenza di Pier Paolo Nagni, insieme con Franco Capone, sconfitto alle primarie, ha dimostrato la condivisione delle idee e dell'IDV con la coalizione di centro-sinistra alle prossime amministrative. Un importante traguardo raggiunto dal centro-sinistra ai fini di una larga coalizione è stato quello di aver convinto anche Giuseppe Laurelli di Sernia Viva di far parte dell'alleanza. Laurelli, da sempre fortemente critico nei confronti di Brasiello, con una stretta di mano ha sancito l'accordo per correre insieme con il centro-sinistra, rinunciando a una corsa in solitudine con il candidato sindaco Adelaide Parisi. Da questo accordo nascerà Perisernia, che avrà come simbolo un ponte stilizzato e sarà collegato a Luigi Brasiello. Saranno della lista gran parte degli amministratori comunali di Sernia dal 1993 al 2002 sotto le giunte di Veneziale e Caterina. Anche il simbolo del ponte stilizzato richiama il contrassegno di vent'anni fa con il quale il centro-sinistra amministrò il capologo Pentro per quasi dieci anni. Dunque a sostegno di Brasiello dovrebbero esserci oltre al Partito Democratico, l'Italia dei Valori e alla lista civica del ponte, anche l'Udeur, Sinistra Ecologia e Libertà, i socialisti e il Partito dei Comunisti italiani resta da verificare la posizione dell'Unione di Centro. Oltre al centro-sinistra Luigi Brasiello concorreranno per un posto da sindaco di Sernia anche il senatore D'Ambrosio, sostenuto dalla lista iniziativa democratica, mentre il centro-destra con il generale d'Apollonio sarà della competizione elettorale con le liste del Popolo della Libertà, Grande Sud, Fratelli d'Italia, Progetto Molise e una lista civica facente capo allo stesso candidato sindaco. Il fatto non sussiste. Con questa motivazione i giudici del Tribunale di Campobasso hanno assolto il sindaco di Boiano Antonio Silvestri e i componenti della giunta comunale in carica nel 2008. La vicenda ha visto il primo cittadino e gli assessori imputati del reato d'abuso d'ufficio perché secondo l'accusa avrebbero conferito un incarico per l'aggiornamento dell'informatizzazione del comune a un soggetto esterno procurando a quest'ultimo un ingiusto profitto e un danno all'amministrazione. Per l'ennesima volta è stata fatta giustizia ha dichiarato l'avvocato Messere e ancora una volta c'è stata la dimostrazione che le denunce per contrasti di natura politica non trovano spazio nelle sentenze dei nostri giudici. E occorre sbloccare con urgenza i fondi riferiti alle annualità 2011 e 2012 non ancora erogati per garantire le attività. Questo è quanto ha affermato il vicepresidente della giunta regionale Michele Petraroia durante il confronto avviato presso l'assessorato regionale alle politiche sociali con i responsabili dei piani sociali di zona e i coordinatori degli ambiti. All'incontro hanno preso parte anche il sindaco di Campobasso Gino Di Bartolomeo, il sindaco di Porto Cannone Luigi Mascio, il commissario straordinario del comune di Sernia Vincenza Filippi e altri amministratori. Ascoltiamo. Cinque i punti con i quali l'assessore regionale Michele Petraroia vorrebbe iniziare a far rientrare l'emergenza sociale in atto. A seguito dell'incontro presso la sede di Via Toscana Petraroia ha acquisito la necessità di sbloccare i fondi riferiti alle annualità 2011 e 2012 non ancora erogati e l'esigenza di procedere a una proroga dell'attività per il secondo semestre 2013 che garantisca il prosieguo dei servizi. Dobbiamo assolutamente adoperarci con concretezza per recuperare tutte e quante le risorse possibili e metterle a disposizione dei comuni e dei piani sociali di zona per contrastare la povertà. Ci sono ceti medi che ormai sono scivolati verso condizioni di marginalità. Troppe famiglie vivono senza che all'interno di quei nuclei entri un solo euro. Come ha certificato anche l'Istat in Italia un milione di famiglie che non hanno nessun componente che lavora o è pensionato. Rispetto a questo dramma le istituzioni si devono mobilitare. Quello che abbiamo fatto ieri è convocato i sette coordinatori degli ambiti territoriali di zona con gli amministratori locali, i direttori, con i responsabili della struttura perché se ci sono risorse da sbloccare anche riferite alle pregresse annualità 2011-2012 questo lo dobbiamo fare con assoluta rapidità. Dobbiamo dare certezza agli ambiti attraverso una proroga fino a fine anno e costruire l'integrazione di sistema tra sanità e sociale con un nuovo piano sociale regionale. Questa è un'attività da realizzare insieme ai sindacati, insieme alle associazioni di volontariato, con la Caritas e con tutti quegli operatori e quelle associazioni che si muovono quotidianamente in silenzio al fianco degli ultimi, dei più deboli e dei più fragili. Tutti i partecipanti hanno condiviso l'impellenza di misure prioritarie di potenziamento strutturale delle risorse assegnate alle politiche sociali per contrastare una crisi drammatica che colpisce i più deboli. Spostiamoci a Termoli dove è stato concesso un contributo di circa 470 mila euro per realizzare lavori di ristrutturazione e ammodernamento della banchina del porto. La misura ha la finalità di migliorare la qualità delle strutture e dei servizi offerti nei porti di pesca, le condizioni di lavoro e la sicurezza degli addetti ai lavori. Il provvedimento, ha sottolineato l'assessore Vittorino Facciolla, rientra nell'ambito del programma operativo del Fondo Europeo della Pesca e risponde alle istanze degli operatori del settore e delle amministrazioni pubbliche, integrando nuovi servizi a disposizione della marineria locale e del comparto ittico. E sono due i candidati che hanno ufficializzato la propria candidatura a ricoprire il ruolo di rettore dell'Università degli Studi della Molise per il prossimo mandato 2013-2016, il professor Raffaele Coppola, ordinario di microbiologia agraria e già direttore del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agroalimentari, Ambientali e Microbiologiche, il professor Gian Maria Palmieri, ordinario di diritto commerciale attuale e direttore del Dipartimento Giuridico. Le elezioni e le votazioni si svolgeranno mercoledì 15 maggio. Ed è andata in onda ieri sera una nuova puntata del programma Salute e Sapori dedicato alla medicina e all'enogastronomia del Molise. Tanti gli argomenti della serata affrontati con gli ospiti presenti e con il pubblico intervenuto da casa mediante il servizio degli SMS. Vediamo. Nuova puntata del programma Salute e Sapori. Tre medici e un'imprenditrice molisana e rappresentanza di un'azienda locale di tartufi sono intervenuti nel corso della trasmissione su molteplici argomenti. Stretta l'interazione con il pubblico da casa che ha partecipato al programma attraverso il servizio di SMS. Gli ospiti di Salute e Sapori hanno risposto a domande e curiosità sugli argomenti affrontati. Ospite della trasmissione la dottoressa Egidia Cofelice, coordinatore donazione organi e tessuti della regione Molise, che ha affrontato la delicata questione della donazione degli organi e del trapianto. Il dottor Luigi Biondi, medico chirurgo specialista in medicina aeronautica e spaziale, ha parlato del Dipartimento di Prevenzione, di medicina necroscopica e vaccinazioni. Ospite della puntata anche Severino Giuliano, naturopata ed esperto in medicina funzionale. E per la parte relativa ai sapori si è parlato di tartufi con Francesca Marcuccio, in rappresentanza dell'azienda Bacol di Siro Baccaro. Non è mancata la brutta notizia che in questa puntata è tornata sul piano sanitario redatto dal commissario governativo Filippo Basso e sulla nomina di Carmine Ruta. Salute Sapori tornerà in onda mercoledì 8 maggio alle ore 21.05 sul canale 611 del Digitale Terrestre e in streaming sul sito www.molisetv.com. Bene, con questo è tutto. Io vi ringrazio per la cordiale attenzione e vi do appuntamento alle prossime edizioni della nostra informazione. Ora spazio alle previsioni meteo. Il meteo è offerto da Al di là delle parole, se riuscirai a comprendere il significato reale di bellezza, arte e scultura, riuscirai a creare armonia e colori intensamente surreali da esprimere il proprio essere. Naturalmente bella, naturalmente bella, naturalmente bella. A Campobasso, in via Campagna 215. Il meteo è stato offerto da Al di là delle parole, se riuscirai a comprendere il significato reale di bellezza, arte e scultura, riuscirai a creare armonia e colori intensamente surreali da esprimere il proprio essere. Naturalmente bella, naturalmente bella, naturalmente bella. A Campobasso, in via Campagna 215.